Salve a tutti e a voi dall'altra parte dello schermo. Questo è il nostro primo video sul canale Cucinetus. Aspetta, c'è un problema. Che c'è? Che c'è? Il problema che sta, lì c'è scritto REC. Eh. In più c'è stanno quelle cose, i numeri che stanno a fare... Quanta chilometri. Senti, secondo me c'è il problema, sono un minuto di questo. Stavamo dicendo, che cos'è, che cos'è Cucinetus? Molti di voi staranno pensando che Cucinetus è qualcosa di legato ai tutorial di cucina. Ma non lo è. Ma vaffan... Scusa, ma tu non lo sapevi che non era legato ai... Nella cosa di cucina, scusa. Ma che cosa? Il canale. Quale è il canale? No, andiamo avanti che è meglio. Allora, che cosa vi vogliamo proporre su questo Cucinetus? La nostra cucina sforna soltanto cortometraggi, gag, sketch, doppiaggi, animazione. Cercheremo di arrangiarci in tutti i modi possibili. In questo momento ci stiamo anche organizzando in un piccolo studio, se lo vogliamo chiamare così, tra tantissime virgolette, che alla fine è il sottoscala, la cucinetta sua. Ecco perché ci siamo chiamati così. Era questa l'idea. Non ne interessava comunque un po' il pubblico. Stato insinito, è entusiasmo, è già partito. Infatti, infatti, cioè, se tu pensi che sarei il personaggio meno gradito. Allora, speriamo a questo. Speriamo, cioè, innanzitutto, io sono Zephyr, potete trovare il mio canale qui sotto. E questo è... Qui sotto, non c'è. Perché effettivamente è un canale del cazzo. E lui... Lui è Boschetti, E lui è... Lui è Boschetti. Come? Slave. Slave. Ciao. Sono slave. Posso conquistare una donna facendola bagnare soltanto guardandola negli occhi col mio sguardo perforante. Malato terminale, tu sei? No, ma... Qui sotto non trovate il mio canale, ma... Non fa ridere. Che cosa abbiamo in mente? Altre rubriche, ma come antipasco, vi abbiamo proposto questi tre video che abbiamo già caricato. Vi vedete sulla mia testa. No, 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 scusate. Voi quando fate queste cose ve le dovete dire? No, perché io ho preparato dei bruschetti per antipasto. Eh, mi dispiace, però le bruschette io avrei una proposta dove te le potresti mettere. Aspetta un attimo, poi tu mi hai messo questi video qui davanti, no? A me cosa si vede? Cioè, io... Ma cacchio, faccia, perciò... Io la penso in questo modo, che se effettivamente la tua immagine viene coperta per il video è una cosa positiva. E questo vuoi? Che fai scrivare il cazzo in poche parole. Ma leva ste cose! Leva! Oh, cazzo! Che è successo? Eh, bruschette! Ecco, poi il bruschetto. Eh, sì, bruschetto. Bene, come... come stavamo dicendo insieme a bruschetti... Boschetti! Eh, vabbè, boschetti, non me posso ricordar tutto. I video che abbiamo già caricato sul nostro canale fanno parte della nostra prima rubrica chiamata Corti Cortissimi. in cosa consistono questi corti cortissimi? Senti, bene. I corti cortissimi sono dei corti... cortissimi. Molto bene. Guarda, voglio dire, voglio dire, è chiaro nel senso che tutta la luce spara nel faccia, quindi siamo chiari. Quindi, che è sta faccia nel cosiddetto? Concludendo questo video, se vi sono piaciuti i video che abbiamo già caricato, ma soprattutto se siete curiosi di sapere che cosa abbiamo in serbo per voi, in italiano, perché noi non veniamo dalla Serbia, iscrivetevi, condividete e soprattutto mettete mi piace, anzi, non soprattutto mettete mi piace, soprattutto commentate, fateci sapere che cosa ne pensate. e io vi do un consiglio, laicade, laicade, ma vi voglio dare un consiglio, sei onesto e schifoso, Matteo, vi do un consiglio, seguiteci perché stiamo preparando, c'è una sorpresa nel porno per voi, per Natale, ok? Il tacchino ce l'ho messo prima. Sì. Ma che scelta il tacchino? Il tacchino, faglielo credere. Quindi, al prossimo video e arrivederci! Ciao mamma! Il ciclo è che ti fa troppo. Ma ragà? Ma ragà? Avete lasciato la lega francesa? Ciao mamma!